Castellabate nel periodo natalizio indossa una veste luminosa e festosa grazie alle numerose manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio e patrocinate dal comune di Castellabate di concerto con il competente ufficio di promozione turistica e culturale. Tanti gli appuntamenti nel fine settimana che precede il Natale nel comune cilentano. Sabato 22 dicembre la Proloco Castellabate organizza nel centro storico il villaggio di Babbo Natale dalle 15 e 30 alle 20 e 30 con animazione per i più piccoli tra gonfiabili Elfi e Snow Globe. Weekend di shopping natalizio alla ricerca dei regali da mettere sotto l'albero su Corso Matarazzo con un fantastico Natale. Dal 20 al 22 dicembre il gruppo Commercianti Riuniti ha organizzato giornate di sconti e intrattenimento con lo slogan Comparate nei piccoli negozi per dar vita al vostro paese. Venerdì 21 dicembre invece torna la quarta edizione della tombolata vivente prima nel cilento grazie all'intuizione dell'associazione Vivi San Marco doppio turno alle 18 e 30 e alle 20 e 30 in piazza comunale. Castellabate è il luogo dell'incanto tutto l'anno si veste a festa per regalare magici momenti con le attività per i grandi e piccini a cura delle associazioni che ringraziamo per la grande partecipazione dichiara il vice sindaco con deleghe al turismo alla cultura e al commercio Luisa Maiuri un impegno costante da parte di tutti per promuovere la permanenza nel nostro comune valorizzare l'artigianato locale e incentivare gli acquisti nelle attività del posto che sono la vita di un territorio contro la concorrenza delle commerce e dei grandi centri commerciali.